Siamo a Borrello sul campo del paese dove la squadra locale si sta allenando in vista del prossimo campionato di promozione un traguardo storico per questa piccola cittadina che è arrivata a questo nuovo storico traguardo attraverso i ripescaggi ma meritandoselo ampiamente anche sul campo nonostante poi la parte finale non abbia regalato soddisfazioni che avrebbero permesso appunto l'acquisizione sul campo di questo traguardo. Il direttore sportivo Tonino Dorazio ha allestito una squadra all'altezza della situazione per ben figurare anche in promozione, è vero Tonino? Sì stiamo allestendo una buona squadra per fare un campionato di medio alta classifica e quindi speriamo bene è un risultato storico per Borrello un piccolo centro nell'entroterra abruzzese che sicuramente porterà questo nome in giro per le due province abruzzese che è fondamentale per la società e per il comune di Borrello. C'era stata in estate un po' di tempo fa qualche voce riguardante il trasferimento sia del titolo sportivo ma anche della stessa squadra in altre località, poi come è andata a finire? Sì la società stava valutando di trasferire il Borrello in una parte più perché diciamo che Borrello ha un problema logistico per portare giocatori qui insomma un po' lontano ma per il momento è tutto in alto mare il presidente Petrolla stava cercando di portarlo su al comune di Atessa però alla fine non se n'è fatto nulla, vedremo in futuro. Prima di parlare con Dorazio dell'aspetto tecnico quindi con i nuovi arrivati bisogna dire che la società si è rinforzata con l'ingresso di alcuni importanti dirigenti? Sì la società si è rinforzata, è entrato l'ex presidente della Val di Sangro Barducci insieme al team manager Stefano che quest'anno si sono aggiunti già al duo di Cicco Petrolla e quindi sarà una società forte, onesta che sicuramente continuerà, ci sarà un futuro Dorazio. Poi la parte tecnica con la riconferma del mister Anzivino che non era affatto scontata però alla fine si è deciso di dare fiducia a questo importante tecnico? Non era scontata non perché non abbia meritato, non era scontata perché aveva tante richieste però è ammirevole l'umiltà di questo grande allenatore che vuole continuare anche in un piccolo centro a lavorare molto bene e diciamo che la società è riuscito a riconfermarlo ugualmente nonostante le tante richieste di categorie superiori. Oltre alla riconferma di mister Anzivino abbiamo preso come preparatore atletico il professor Rocco De Santis fratello del grande campione Morgan De Santis, il portierone della nazionale italiana. E con questo non va ricordato semplicemente perché il fratello è famoso ma devo ammettere che come preparatore atletico è veramente preparato e siamo molto soddisfatti del suo grande lavoro che sta svolgendo. E poi parliamo anche dell'aspetto tecnico della squadra che si è rinforzata con tanti arrivi qualche partenza e tante riconferme. Vogliamo nel dettaglio dire chi sono arrivati, quali sono quelli che rimangono dei più importanti e poi che è partito? Adesso qualche nome sicuramente mi potrà sfuggire ma diciamo gli arrivi sono Marco Nato, il portiere ex Vastese che non ha bisogno di presentazioni, per noi è un onore averlo con noi è arrivato Mottola, il difensore centrale insieme a Spoltore Alessio ex San Nicolò e ex Angolana, è arrivato Fonseca, ci sono adesso Ferrandina, Di Marco il fuori quota, ci sono altri fuori quota, diciamo che la rosa è completa anche se ci sarà qualche arrivo ancora di qualche fuori quota. dopo c'è Carafa, c'è Luca Campli che si aggregherà al gruppo fra qualche giorno dopo il grave importunio e c'è Beniamino, altro centrocampista importante per questa squadra più le riconferme di Mainella, De Julis, adesso non sto a delencarli tutti perché mi potrebbe sfuggire sicuramente qualche nome. Fonseca si era parlato della Val di Sangro, poi però che cosa è successo? Siete stati più bravi voi? No, da quello che io so Fonseca non era della Val di Sangro Fonseca si stava allenando inizialmente con la Val di Sangro perché come tutti i giocatori stavano valutando le richieste di mercato siccome è in attesa la sua moglie, quindi gli faccio tanti auguri preferiva fermarsi più o meno dove lui negli ultimi anni abita, cioè a Tessa e alla fine abbiamo raggiunto un accordo ed è arrivato qui a Borrello. Mister Anzivino, ci ritroviamo a questa preparazione del Borrello o con la promozione, in promozione, scusiamo per il gioco di parole e quindi si dimentica l'esperienza di Fontanelle perché anche se non è arrivata sul campo però l'avete meritata questa promozione. Ma intanto l'esperienza di Fontanelle è stata un'esperienza brutta, difficile però credo che sia stata ancora fondamentale il campionato perché dopo una settimana avevamo la Coppa Abruzzo che ci permetteva come sapevamo di risalire e non era facile ricrearsi e i ragazzi sono stati bravissimi a farlo come l'hanno fatto diverse volte in quelle poche volte che abbiamo sbagliato partite, hanno avuto la capacità e la grande forza di riprendersi subito e per cui credo che la promozione veramente ci stava tutto. Quest'anno avete allestito un'ottima squadra, soddisfatto? Ma intanto è una buona squadra, è naturale che dobbiamo ancora vedere di completarla con i fuori quote che sono determinanti e senza i fuori quote è difficile strutturare bene la squadra però sono fiducioso e so che ci sono squadre tipo Lortona poi San Buceto che hanno fatto mi sembra la fusione ecco forse penso che Lortona sia la candidata assoluta poi ci sono diverse squadre di outsider che possono dire la loro E il Borrello? Borrello credo che possa lottare in quelle posizioni ho fiduciato nella squadra però per la prima volta nella sua storia Borrello si trova a fare la promozione e credo che sia già una grande soddisfazione faremo di tutto per fare un campionato competitivo di stare attaccato nelle posizioni alte sapendo le difficoltà che ha questo torneo Il sindaco di Borrello Giovanni Dinunzio ovviamente soddisfatto per la promozione in promozione del Borrello però forse anche spiazzato da questa improvvisa escalation della squadra che nel giro di poco tempo è arrivata alle ribalte regionali Beh sì, un po' siamo rimasti spiazzati però noi da quando siamo in amministrazione ha seguito sempre il patron Petrolla in questo andare avanti con la squadra Certo, non ci aspettavamo che così breve tempo si arrivasse in promozione ci ha preso un po' la sprovvista tant'è che anche con discorsi eventualmente legati agli impianti sportivi dobbiamo piano piano cercare di adeguarci chiaramente con i tempi che corrono ci vorrà un po' di tempo noi ci auguriamo che la squadra possa rimanere a questi livelli anche per qualche altro anno così da essere come volano promozionale per il territorio Voi nell'immediato farete qualcosina mi sembra che avevate presentato anche un progetto però da approvare per i finanziamenti Sì, come parecchi comuni italiani abbiamo presentato un progetto un bando del Ministero e poi un alla Regione chiaramente non sappiamo, non abbiamo la certezza che i fondi vengano assegnati cercheremo per quest'anno almeno di fare in modo che si possa diciamo un attimino struire la vista della partita fuori dal campo così da permettere alla squadra magari di fare qualche piccolo incasso durante le partite così permettendo il pagamento di un biglietto poi vedremo se riusciamo a reperire altri fondi di andare avanti con qualche piccola sua stimazione poi se riusciamo a trovare un canale che ci finanzi faremo anche l'impianto ancora più bello grazie a tutti